Adele, dove vai? A riprendermi mia figlia! Aspetta, aspetta! Aspetta cosa! Se avessi saputo che eravate delle spie fasciste, mi avrei sparato! Ma non siamo delle spie fasciste, l'hanno detto solo per salvarsi! Le abbiamo fatte a sapere tutti i momenti R. Perché avevate le divise naziste? Poi voi parlate in un modo molto, sta. Lo so. Bruce Lee, Village Beep, Miss Andrew Strand, chi siete? Adele! È molto difficile da spiegare adesso. Allora, ma non lo capisci? Non lo capisci che è una missione suicida? Non ce la puoi fare senza di noi. E perché? Perché sono una donna! Ma no, perché sei sola! Ascolta, adesso, prima salviamo i miei amici e dopo andiamo tutti insieme a recuperare Monica, d'accordo? Ma fidati di me! Però si fa come dico io! Sì! Te sì! Sì! Esegui dare una jeep! Abbastanza! Andiamo! Sì! Allora, la jeep! Dobbiamo recuperare anche gli zaini alla gioconda, eh! Allora, era così, così!